Io sono Padre Miliziano Giuseppe, sono parroco della parroccia Sant'Antonio Abbate di Cattolica Araclea. Da anni abbiamo iniziato a fare questa bella iniziativa dei presepi nelle famiglie, come era una volta, in modo da incrementare l'amore a Gesù Bampino, il Santo Natale e quindi fare una cosa che fa bene, una cosa religiosa. Speriamo che si incrementi sempre di più e che tanti possano partecipare. Mando saluti a tutti quanti, sia quelli che hanno partecipato, sia gli altri che potranno partecipare, i parrocciani, i cittadini di Cattolica e anche quelli che sono all'estero, quindi in Canada, in Germania, tutti quanti, sempre vi pensiamo e noi vogliamo bene. Anche voi pensate, vogliateci bene e freghiamo visentevolmente. Ciao, un bacio a tutti. E vieni in una grotta, freddo al cielo, e vieni in una grotta, freddo al cielo. Oh, bambino mio divino, io ti vedo qui a crema, oh Dio beato, a quanto ti costò l'avermi amato. A quanto ti costò l'avermi amato. A te che sei nel mondo, il creatore, mancano bagni e fuoco. Oh, mio signore, mancano bagni e fuoco. Oh, mio signore, caro e letto, fardo letto, guardo questa povertà. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. A te che sei nel mondo, il creatore, mancano bagni e fuoco. Io mi innamora, già che ti feci amor, come era ancora. Ciao. Ciao.